ciao ragazzi oggi video super veloce perché in questo momento stavo montando il video che voi avete visto sabato scorso sulla mia odissea del rifare il passaporto e mi sono accorta che c'è un'anomalia assurda in quel video sembra che c'è un'interferenza con la fotocamera e qualcuno sta parlando dentro in una radiolina solo che non si capisce quello che dicono e in più come poi dirò in quel video più avanti la mia autoradio non funziona quindi adesso vi lascio la clip scrivetemi qui sotto nel commento se riuscite a capire quello che dice e cosa ne pensate ovviamente ci vediamo alla prossima